gill rocca sarà tra i protagonisti della nuova ed attesissima edizione della talpa l'ex ballerino di ballando con le stelle è stato legato per 14 anni all'attrice miriam galanti ma il loro rapporto è naufragato nel 2023 poi all'inizio del 2024 rocca è finalmente uscito allo scoperto con una foto sui social insieme alla sua nuova fiamma lei è roberta mastro michele attrice di professione apparsa nella saga cinematografica manuale d'amore in passato si vociferava che rocca avesse avuto anche una storia con bianca guaccero ma adesso pare che il cuore del ballerino batta soltanto per roberta gill rocca chi è la nuova fidanzata roberta mastro michele lui è un ballerino famosissimo noto soprattutto per la partecipazione a ballando con le stelle lei è un'attrice di cinema e fiction gill rocca e miriam galanti sono stati legati per 14 anni tra alti e bassi finché motivi imprecisati non li hanno portati alla rottura definitiva su instagram rocca aveva provato a raccontare la rottura così è difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile spero che la morbosità del sapere il perché il per come non si insinui nelle nostre vite è stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero da allora il nome dell'ex ballerino è stato accostato a vari flirt veri o presunti si parlava qualche tempo fa dell'attrice conduttrice bianca guaccero ma era stata lei a smentire le voci in maniera categorica allora ragazzi aveva scritto sui social bianca sono qui per smentire l'ennesimo articolo che mi vede impegnata con l'ennesima persona soltanto perché abbiamo lavorato insieme durante tale quale prima c'è stato pierpaolo pretelli ora c'è gille rocca sono dei carissimi ragazzi ma io con questi gossip non centro nulla quindi ci tengo a precisarlo invito alcuni dei cari amici giornalisti a rivolgere l'attenzione ad altri gossip più veritieri di questi grazie in seguito a queste voci gille rocca ha finalmente deciso di uscire allo scoperto all'inizio del 2024 ha pubblicato su instagram il primo scatto in coppia con roberta mastro michele la sua nuova fidanzata un'immagine semplice in cui due innamorati appaiono felici e spensierati con una didascalia di rocca che vale più di mille parole e che devo di sto tanto bene chi è roberta mastro michele roberta mastro michele nuova fidanzata di gille rocca è un'attrice professionista originaria di roma negli anni ha recitato in diversi ruoli è stata una comparsa nel film come tu mi vuoi e ha preso parte alla saga cult manuale d'amore ed è apparsa anche sul piccolo schermo nel 2009 all'interno dello storico programma quelli che il calcio la mastro michele ha un discreto seguito sui social circa 66 mila followers ma è molto gelosa della sua privacy o Grazie a tutti